grazie ai nostri sponsor andiamo in onda anche oggi ragazzi e per bene perculandosi la giornata si fa attiva bella ganza e vogliamo altresì mettere su della musica fresca in una classica edizione così senza pa temi senza pa te ci ascoltiamo 12 22 forse due sì 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 ma andiamo sempre negli anni 90 i grandi anni 90 non è vero ragazzi è vero old boy o non è vero vai prego partiamo con il gingolino vari ghettaletti va fammi sentire cosa ci mettiamo su un bel ci facciamo sentire alla bocciofila la bocciofila di russi che ci manda in onda sempre a russi nonostante tutte le restrizioni c'è un nuovo sport per voi i teenagers ragazzini al centro alla bocciofila facendo richieste di tesseramento uc mix chips chips potrete venire tutti i giorni regolarmente a giocare alle bocce con distanziamento sociale e mi raccomando anche distanziamento nelle palle in cui tirate perché se no se vi avvicinate c'è dpgm che dice che non dovete stare troppo vicini quindi che gioco è comunque venite alla bocciofila a giocare alle bocce perché ho visto che si può allora e volevo ben dire ragazzi sì volevo ben dire che abbiamo della musica sua dente due pezzi dagli anni 80 adorati anni 80 dei guns and roses che vado a presentarvi con eterna malinconia abbiamo mai word e knocking neves door my word è la fine dell'album use your religion godetevelo a tutti vai 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 vitaletti grazie 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 a grazie 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 Guess what I'm doing now? Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Oh, oh, oh Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione